Tantazione! Allora era quel nostro la causa della nema! Maledetto! Vi sistemiamo noi! Pensaci tu, Link! Attenzione! Sì! Sì! Ha funzionato! Forza, all'attacco! Acqua! Pazzesco, Link! È la nostra occasione! Pazzesco, Link! Pazzesco, Link! Pazzesco, Link! Ottenzione! È la finestra! Flow! Vediamo fermarlo! Forza, all'attacco! Ma Farludo! Seguiamolo! Nostra occasione! Sì! Sì! Dobbiamo fermarlo! L'anelma è ovunque! Usiamo l'acqua per spazzarla via! Può nuotare nell'anelma! Non si sposta così non riusciremo mai a raggiungerlo! È un'occasione! È dura muoversi con tutta questa melma! Non c'è niente che possiamo fare! Sono un'occasione! Sì! Sì! L'Aqua! Piove melma, occhi aperti! Acqua! Occasione! Sì! Sì! Faccia poco, Link! Faccia poco, Link! Sì! 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 Sì!